Io per noi, questo è il titolo del primo progetto che Arezzo Autismo firma per le scuole aretine. In particolar modo si tratta di un percorso per favorire l'inserimento dei ragazzi con autismo all'interno della loro classe. Quali sono gli obiettivi che vi ponete? L'obiettivo nostro in questo progetto, ma in maniera più ampia anche rispetto alla nostra associazione, è creare un linguaggio unico, un linguaggio che sia adatto per integrare, per creare una rete con la famiglia, con la scuola e con la sanità. E trattare i disturbi dell'ospetto autistico con una partecipazione attiva anche da parte delle famiglie, cosiddette cargivers. E quindi abbiamo pensato di strutturarlo nel secondo quadrimestre di ogni anno scolastico, nel passaggio, diciamo, quindi in prima elementare, in prima media, in prima superiore, per favorire, diciamo, inizialmente un percorso autonomo di conoscenza tra i compagni e con il team docenti. E secondariamente per favorire anche e valorizzare la conoscenza diretta. E alla fine c'è la fase conclusiva, quella dove si narrerà la storia del ragazzo alla classe, con l'intervento sia della famiglia, di un elemento della famiglia, ma anche di un supporto medico. Pur essendo destinato a soggetti con disturbi dello spettro autistico, il progetto è stato concepito in forma modulare per essere adattato ad altre casistiche di difficoltà e disagio. Ci potrebbe essere l'alunno DSA, l'alunno BES, oppure qualche altro bambino vittima di bullismo. Quindi basta solamente modularlo e calibrarlo a seconda delle esigenze. Il progetto nasce, diceva, da un'esigenza pratica. Riscontrate come famiglie delle lacune, diciamo così, nel tessuto scolastico, nella struttura scolastica in questi casi? Diciamo che abbiamo riscontrato una certa rigidità, forse, che però, insomma, piano piano speriamo che questa cultura si ribalti. Anche perché quest'anno, nel giro del primo mese, tutti i bambini avevano assegnato il loro insegnante di sostegno con tutte le ore. In provincia si parla di 1138 casi, di cui quasi 400 con gravità, a fronte di 740 insegnanti. Quindi è un buonissimo rapporto, mai successo prima.